Se vogliamo approfondarci iniziamo, lo posso dire anch'io, abbiamo concordato prima, l'ultimo incontro nella prima serie del Medioevo in Archivio. Io ringrazio l'Associazione Italia Medievale, ringrazio Archeio che sono stati i fautori e i promotori di questa iniziativa e che ha avuto direi un buon successo e che non vale la pena di replicare sicuramente. Oggi parliamo di un documento che tradizionalmente come datazione chiuderebbe il Medioevo 1492, è una data a me particolarmente cara perché il 27 aprile è il giorno mio compleanno, quindi non vedo niente, lo faccio in mente, e magari qualche anno dopo. E' un documento molto interessante, molto importante, molto importante per una serie di cose che ci illustrerà la professoressa Valienti. Che ringrazio di essere venuta e di partecipare a questa iniziativa di giugno, in un tempo un po' forse troppo in là per i tempi milanesi, però vedo che la partecipazione di pubblico è abbastanza nutrita. Però non vi faccio perdere ulteriormente tempo e passo la parola ad Andrea Terreni che ci dirà qualche saluto. Grazie. Buongiorno a tutti, sono io a ringraziare Luigi Compagnoni, direttore dell'archivio di Stato per aver accettato questa proposta che assieme a Maurizio Calì, presidente dell'Associazione Italia Medievale, abbiamo concepito di fare una serie di incontri che quest'anno si è concretizzato in questa serie di quattro incontri, marzo, giugno, lunedì e diciotto, a cadenza mensile dedicati appunto alla valorizzazione, alla conoscenza, alla riproposizione, diciamo, in chiave monografica di quattro grandi testimonianze documentarie conservate qua in archivio di Stato e particolarmente significative per la storia milanese ma con un respiro, diciamo, di più di ampio raggio, di loro significato appunto per la storia direi, userei direi mondiale. Abbiamo iniziato il primo incontro, è stato dedicato alla pergamena, alla cosiddetta numero uno, quindi archivio nota come la numero uno, cioè la pergamena più antica conservata negli archivi di Stato d'Italia, 721, di età longobarda, un vero e proprio cimedio che l'archivio di Stato ha la fortuna di conservare nel suo patrimonio. Abbiamo proseguito poi con documentazione appunto medievale legata a Cardomagno, nel secondo incontro, per cui passare a Federico II, a Federico Barbarossa e per aggiungere oggi appunto all'imitare, diciamo, della cronologia classica del Medioevo, anzi se vogliamo tecnicamente sforando di qualche mese rispetto alla convenzionale inizio dell'età moderna, 1493, 1492, scoperto dell'America appunto, a conclusione, diciamo, di questo primo ciclo di Medioevo in archivio. Naturalmente mi fa molto piacere quanto anticipava prima il direttore e penso che anche Maurizio Cari sia un po' molto d'accordo che, insomma, questa proposta di cicli monografici legati a grandi fonti conservati in archivio, vada opportunamente riproposta perché incontra il favore e l'interesse del pubblico e penso che sia di particolare significato meritorio per la valorizzazione delle fonti e la conoscenza appunto di questi veri e propri pezzi unici che l'archivio conserva e che è giusto e meglio proporre ad un grande pubblico. E appunto, rubo ancora proprio pochissimi minuti per un piccolo accetto appunto a questa fonte specifica di cui poi la professoressa Vaglienti ci parlerà in maniera prenapprofondita. Per dire quanto l'archivio sforzesco conservato appunto in archivio di Stato conservi, appunto tra tante missive, in questo grande carteggio del periodo locale sforzesco, quindi del 450 e 1500, con qualche prosecuzione anche ai primi del 500, conservi appunto all'interno in questo grandissimo fondo essenzialmente di missive, di corrispondenza diplomatica, delle vere e proprie chicche particolarmente interessanti che appunto in mezzo a notizie di altro genere rivelano particolari storici che poi hanno avuto, di cui si era avuto un riverbero negli anni, nei secoli a venire in maniera intensa. In maniera analoga rispetto appunto a questa missiva del 1493, ricordo un'altra missiva di qualche anno successivo, che sembra del 1498, in cui in maniera simile un oratore presente alla corte inglese rivela, insomma comunica al Duca di Milano, che è lui col vuoro, la scoperta del Nord America, quella che adesso sappiamo, quello che poi in seguito si conobbe come Nord America, da parte di Giovanni Cabot, John Cabot, attraverso questa corrispondenza dall'Inghilterra a Milano abbiamo la prima notizia della scoperta della costa, del canale, dell'alto canale. Insomma la preziosità dell'archivio sforzesco anche per questi particolari specifici è notevolissima. Buongiorno a tutti, fatto che sia qui fra voi è dovuto in realtà all'occasione che abbiamo più che altro di vedere un documento straordinario e di entrare in una storia un po' particolare, cioè la storia nel momento in cui la si fa, non in cui la si giudica dopo 50, 100 o 500 anni. Quindi con il senno di poi di Francesca Baglietti che vede che cosa è successo dopo quel famoso 12 ottobre 1492. Intanto vediamo il documento perché il documento ha una sua vita. Allora la cosa interessante da un lato è che rimangono nell'affrontare i fenomeni storici sempre due visioni in parallelo e questo indipendentemente da quanto andiamo avanti con le tecniche scientifiche di studio, di approccio alla documentazione e l'interdisciplinarità. Cioè da un lato abbiamo la curiosità e il piacere e un dito di scoprire il documento che ci dice qualche cosa di specifico e dall'altro invece abbiamo il modo di fare storia dello storico che è tutt'altro. Allora sinceramente dal mio punto di vista di studioso di storia questo documento è uno dei documenti che indicano un fenomeno. Non avrebbe alcuna rilevanza, cioè in realtà per noi non è importante la prima volta che viene detta una cosa perché sappiamo in realtà che probabilmente non è la prima volta. E soprattutto non ha neanche un senso mettere un prima. Cioè che senso ha? Lo rende più importante? Perché? E scoperta è il termine corretto. Tutto sommato sappiamo per certo che quando il buono Colombo arriva a Spagnola per citare l'isola più grande è la metà. Quindi non ha scoperto nulla. Scoperto, quindi dobbiamo cominciare a determinare e a dire la scoperta dell'Europa occidentale di alcune isole delle italiane. Perché poi l'isolone grande, cioè l'America del nord, sappiamo che se vogliamo parlare di scoperta da parte occidentale, dobbiamo andare al V secolo e riferire di cerchini. e la usano poi, questa parola scoperta, altro problema fondamentale, il linguaggio. Non adoperiamo parole che non sono usate all'epoca e che poi comunque bisogna fare attenzione a come sono usate all'epoca. Perché cambiano il significato. Una parola semplicissima. Noi qui siamo nel palazzo del Senato. E mi pregio e ho un orgoglio enorme di dire che questo è stato il Senato di Milano. in un senato delicatissimo della storia, della nostra penisola, dell'Unità d'Italia, con tutto un significato di illuminismo, di lotta contro una marea di pregiudizi, di secoli di oppressione che c'è stata, culturale. Ecco, non è il Senato che abbiamo oggi. Ecco, andiamo a vedere cosa dice il documento. Cioè, come all'epoca hanno sentito questa, tra virgolette, scoperta. Anche perché, se vogliamo venire a un'esperienza che forse ci accomuna, io adesso vedo in sala parte alcuni giovanissimi che erano lungi dall'essere nati, però più o meno tutti abbiamo assistito, più o meno grandi, a un altro momento che avrebbe dovuto segnare la svolta della civiltà occidentale e mi riferisco all'allunaggio. Io avevo quattro anni e avevo fatto una cosa di una noiosità, volevo vedere Bracobaldo Show e i miei genitori mi romperano le scatole perché gli dicerano di stare zitta, ovviamente perché ce l'ho allunato. E' andato poi a finire come? No, perché, scusate, siamo allunati ormai da 48 anni, non c'è uno straccio di base sulla luna. Ma non c'è neanche un momento. Una volta avrebbero messo, cioè, ha detto che c'è una bandiera, una bandiera, una miseria. Giriamo intorno alla terra, peraltro ogni tanto caschiamo anche giù per terra, anche in cinese, perché passare le nostre belle sensazioni? Finito lì. Avrebbe dovuto essere la svolta epocale pari alla scoperta di me. Sono passati 50 anni e non è cambiato assolutamente. Nulla, neanche le patate ci sono arrivate. Questo per darvi l'idea. Allora, a 500 anni quando giudicheranno l'allunaggio, cosa diranno? Per farvi capire quanto un documento dal punto di vista storico viene giudicato in modo diverso che dal flash trovato il primo uomo. Ecco, trovato il primo niente. Ecco, ok. Perché diventa interessante questo documento? Proprio perché colloca, pur nella sua enorme prevocità, perché è un documento molto precoce, uno dei primi che danno ufficialmente segnalazione della, diciamo, di ciò, di quella che è stata l'esito della spedizione di Colombo, della prima spedizione di Colombo. Siamo addirittura ancora ad aprile, 27 di aprile, quando poi, diciamo, a Roma, dove parte il flusso di notizie che daranno via tutte le pubblicazioni delle varie forme di lettere di Colombo e quant'altro saranno di marchio. Quindi, è precocissima. Eppure, guardiamo come viene vissuta, fisicamente. Allora, ecco. Ma, manco si inizia, eh. No. Cioè, già, intanto, è una lettera qualunque, come vedete, per l'amor del cielo, l'adoro. Ecco. Avevano il prigio all'epoca di fare che cosa? Di scrivere su carta, di stracci, che rende la carta particolarmente resistente. Eh, una bella grafia, è andata anche bene, perché, se no, non so se sarebbe stato ancora bene. Eh, addirittura, talmente banale, che qui, quando poi la vedrete, eh, c'è il fogo perché è stata infilzata, eh, messa in filza per la sua archiviazione. Arriva piegata, perché ci sono alcuni segni delle piegature, una lettera normale. Una normale, come diremo oggi, neanche quella priorità. Guardate, qua dietro, di solito, quando c'è una notizia di un certo rilevo, si mette cito, che era l'invito al messo, al cavalcante, quello che fisicamente portava la posta al duca, di andare veloce, cito, una volta, vai. Cito, cito, era, vai veloce. Cito, 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 vai volando, questo praticamente si scapicolava e faceva Venezia, Milano, in tre ore, ok? Eh, tre ore no, però, per intenderci, scapicolandosi. Questo era cito, 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 va in volando. Non c'è neanche un cito. Non vale. Si, tutto il resto. Eh, eh. Tanto è vero che prima della parte in cui si addiviene al nostro buon genovese, si parla di una cosa che invece, caspita, induce a pensare cioè da molti giorni gli viene in questa terra uno gioielliere un gioielliere del Papa quale per quanto intendo solicita per comprare molte gioie il Ducatimilano deve sapere che c'è un gioielliere di Papa Alessandro VI che vuole intende fare incetta di gioielli di pietre preziosi a Venezia questa è la notizia che va prima di quella su cui tutta la scuola a cui noi siamo stati cresciuti ha costruito il mito del 12 ottobre 1492 la scoperta della vita la quale scoperta si riduce a queste parole attenzione neanche la notizia allora viene data la notizia perché? perché questa stessa notizia è stata letta pubblicamente nelle calli e nelle piazze di Venezia quindi quindi non c'è la sensibilità da parte dell'oratore sconzesco di trovare la notizia prima di capirla dalle cancellerie o dagli altri diplomatici ambasciatori dallo stesso ambasciatore del sovrano di Spagna questo il nostro povero di mercato è veramente umile cioè è un oratore è una persona che sta lì un po' più che un un ambasciatore come lo chiameremo noi oggi pomposamente è un produsso e non va via senza nulla togliere alle reti nazionali è è lì sente è quello che gli altri dicono e gli dicono sente le notizie pubblicate e viene pubblicata che cosa viene pubblicata in questa terra certe litere che sono le litere perché è il plurale ma in realtà è la lettera composta a tifoni di Cristoforo Colombo che è già in provincia circolare le quali contenono come per alcuni spagnoli la gita di paese per alcuni spagnoli sono trovate sono trovate non c'è stata scoperta la lunaggio l'amstron la teniamo il respiro no sono trovate la casualità che peraltro è correttissima è del tutto casuale sono state trovate non scoperte si scopre ciò che si vuole chi si cerca si trova per caso guardate la correttezza lessicale cerchiamo di rispettarlo Fleming trova casualmente la penicillina Pasteur scopre scopre il vaccino perché lo cerca ok e giustamente perché erano comunque tutti umanisti e le parole contrariamente a noi oggi le sapevano usare e non le usavano casualmente il nostro datore ci sono trovate certe isole ci si mattono casualmente del quale non si aveva cognizione alcuna non dice nuove mai scoperte non ne conoscevamo l'esistenza la capita e l'unità che avevano che noi abbiamo perso cioè per noi quello che noi non conosciamo non esiste come i bambini mentre invece all'epoca si aveva l'unità di conoscere che non erano a noi note ma non significava che non esistessero o non si conoscessero altri potevano conoscere adottate d'oro spezzi e altri buoni frutti le copie delle quali lettere non mango all'eccellenza vostra perché per il consule dei catellani il consule dei catellani è il consule del cartil non il consule del senso il consulato nostro non era l'abbasciatore era il capo della delegazione degli arcanti di Catalogna cioè quelli che commerciavano con l'Italia soprattutto per la lama mi è ditto essere in coppia all'unità allora non solo l'oratore guardate che è assurdo l'oratore di Milano a Venezia apprende della dell'appropo sulle isole delle Antille da parte di Colombo dalla pubblicazione praticamente dalla gazzetta ufficiale viene pubblicata pubblicare vuol dire rendere pubblico cioè leggere pubblicità di queste lettere a Venezia ma viene a sapere che le lettere sono già state mandate alla corte di Milano dal console dei catalani a Venezia il che ci dà l'indizio di quanto ancora in diciamo in luce fosse quella quell'aspetto degli ambasciatori degli oratori quindi della diplomazia che pure a partire dalla seconda metà del quattrocento è uno dei tratti salenti che portano alla creazione di quello che noi usiamo definire stare interne ma vi ripeto quanto in realtà fosse ancora zoppa agli albori l'arte diplomatica se su un evento del genere che comunque attenzione adesso lo vedremo dal punto di vista mediatico ha una preparazione di una campagna fatta in modo molto mirato e molto pervasivo a Milano la notizia arriva così arriva sì precoce ma arriva tutta per doppio sedito dire e allora mi viene in mente la marea di studi sulla diplomazia sforzesca che sono stati fatti e che parlano di una diplomazia come se fosse si trattasse di uno stato contemporaneo siamo scusate siamo l'Urania di luce aspettate siamo a livello di striscia la notizia o di senti il mio amico che cosa va a dire in qualche piano allora ciò premesso vediamo un attimo perché non so quanti voi si ricordino nella confusione generale il volant colombo fa due viaggi il primo partendo dalle canarie arriva ad iti il 3 gennaio e poi rientra il 15 di marzo del 1492 il secondo che è quello più 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 disastroso parte da 13 il 25 di settembre con rientro giugno del 93 con rientro giugno del 95 ovviamente è ben lungi dallo scoprire l'America ed è il motivo per cui le Americhe non toccano il suo nome perché sennò non si direbbe perché ma non scopre l'America e soprattutto per tutta la sua vita lui sarà convinto non di avere scoperto le propaggini di un uomo convidente ma le propaggini dell'asma cioè lui muore convinto che quelle siano isole che fanno parte dell'Asia non delle Americhe questo perché altrimenti uno dice ma perché cavolo non ne chiamo attenzione gli altri lo capiscono eh cioè lui non lo vuole capire proprio ma gli altri si perché gli altri a cui accettavamo prima tra cui Amerigo le spucci se ne accorgono in fretta e lì c'è qualche cosa di un po' diverso da quattro elisole e due caminbani quando torna con cosa torna con la miseria l'elenco è qualche pepita un po' di cotone due o tre papagalli qualche aranas l'uso delle amache una decina di indigeni malatici espauriti questo è il bottino del primo minacro voi capite che ovviamente come dire non c'era nulla da celebrare fra l'altro spettacolare è la capacità di presa che ha l'idea che su queste isole ci sia l'oro quando assolutamente oro non c'è e non c'è neanche nel Sud America nel Sud America l'oro arriva dalla parte del Meso America ed è di rimando ed è perché gli azzecchi rapinano le popolazioni incariche mesoamericane del loro ovo e le usano come schiare e quindi ci fanno i romini se voi leggete le straordinarie pagine di Victor von Hagen sulla ricerca dell'elorato la cosa più sconvolgente e drammatica sono le migliaia di vite da una parte e dall'altra che si sono consumate letteralmente cioè 30 anni di spedizioni in queste foreste a impazzire impazzire letteralmente alla ricerca di ovo che non esiste allora tutto questo inizia con una campagna negativa a fronte della povertà del risultato esattamente come per l'allunaggio non ci ha portato nulla nulla ammesso che sia avuto perché non è una diciamo che a farsi due domande no perché se vai in un posto poi ci sai anche tornare in genere almeno in america ci sono riusciti quindi siamo già un passo avanti rispetto alla luna comunque rispetto alla povertà del risultato 4 sassi ha portato Armstrong bene quattro schifezza portato con uno la stessa cosa la campagna mediatica è uguale ed è costruita attraverso uno strumento e grazie a uno strumento che è eccezionale e che segna la vera svolta tra epoca medievale ed epoca moderna ed è la stampa il tuo vale queste isole diventa la scoperta di un nuovo continente grazie alla stampa 4 monili d'oro diventano l'Eldorado grazie alla stampa e attenzione non ai bei codici che la biblioteca quali fianco io mi ricordo che oltre allo straordinario patrimonio dell'archivio di Stato c'è anche uno straordinario patrimonio della biblioteca di archivio che è eccezionale non solo di codici e volumi ma di uno strumento che è il foglio a stampa le lettere a cui si fa riferimento sono stampate e sono stampate sul foglio unico che viene letto da attori e ciarratati nelle fiere in Italia è una sorta di primo gazzettino gossip che dà adito anche a forme se vogliamo di rappresentazione della strada di questi fenomeni e che rende spendibile la notizia di queste spedizioni quindi l'Europa riceve la prima notizia attenzione sulle isole insulis indie supra gangere nuper in ventis quindi sulle isole dell'India da poco ritrovate trovate al di là del gangere direttamente da Cristoforo Colombo per mezzo delle lettere spagnolo che il 14 marzo 1493 il navigatore manda a Lisbona a Gabriele Sacchez la lettera in spagnolo viene tradotta in latino perché il latino è l'inglese dell'epoca ricordo ai giovani di Augusti qui presenti che fino all'ottocento fino alla seconda metà dell'ottocento i grandi congressi scientifici internazionali vedevano i protagonisti parlarsi tutti in latino è il motivo per cui l'Icee si scrive in latino con più gran costrutto che parlare in inglese considerate le scoperte che abbiamo fatto nel 7-800 e le schifezze di scoperte che facciamo adesso comunque il latino lo rende spendibile a livello internazionale e la volgarizzazione in italiano lo rende spendibile a livello poco tutto questo quindi in realtà questa si è una scoperta la scoperta dell'arte della stampa caratteri mobili così come a portare Colombo in quell'oceano vasto e senza punti di riferimento sono una serie di scoperte scientifiche che portano che cosa? portano a una nave in una determinata stanza in grado di muoversi e di essere governata in mare aperto come giustamente segnalato dagli storici per arrivare alle isole delle anfille si inizia alla fine del XIII secolo alla fine del XII secolo col castello di Poppa con l'uso della mussola con l'uso dell'astrolabio in sestante tutto questo è parte di quella modernità che noi racchiudiamo in una semplice data che però non ha corrispondenza storica questo per darvi l'idea qui abbiamo la traduzione in tedesco e della diffusione di questo in Italia il papato di Alessandro VI ha interessarsi però Vipotini anche tra l'Unione Politico Rodrigo Borgia è spagnolo e ha interesse a mettere un sigillo su quella che è la vera competizione politica che si svolge per la prima volta al di là delle volte e ne sono protagoniste due potenze che fino da allora erano stati in secondo ordine nel panorama europeo cioè Spagna e Poglian perché entrati povedissimi di nuovo non pensiamo cioè noi siamo abituati a vedere la Spagna della conquista legata a Carlo V ma Carlo V l'interesse di Carlo V è nelle fiambre l'interesse di Carlo V è mettere il cappello politico sull'Italia su Milano su Napoli dominare e diciamo trattenere la potenza turca la conquista sapete a chi è affidata ai banchieri tedeschi sono i fugger che armano i conquistadores e altro non sono che i mencennari il re di Spagna non metterà un pezzo dopo uno per la conquista delle rete non ce li ha è impegnato in che cosa nell'inferno in terra perché l'Europa si apre con l'inizio del secolo da un lato alle guerre d'Italia che coinvolgono i due blocchi continentali della Francia e dell'impero asmurgico che ha la Germania l'Austria e la Spagna e se la giocano in terra italiana e dall'alto l'altrettanto sanguinaria orrenda massacrante guerra di religione che si aprirà a partire dal 1517 in seguito alla riforma protestante questa è la storia che interessa questi sono i movimenti che allarmano perché in realtà mentre Spagna e Portogallo ma soprattutto il Portogallo costruisce la fronte atlantica nel continente europeo soprattutto in Italia gli stati quelli che nell'esaltato immediatamente esaltato equilibrio degli stati italiani che altro non è che una paralisi per evitare che la penisola italiana diventasse uno stato a livello di dimensioni nazionali come gli altri stati europei vede la penisola stessa diventare diciamo così il bottino da portare a casa da parte di stati che ormai hanno dimensioni e la partita che si gioca è una partita fratricida che pesa a livello non solo generale degli assetti politici istituzionali dell'Europa non è ma anche sulla vita quotidiana delle persone pensate che cos'è una guerra di religione perché noi abbiamo una parvenza adesso qua e là questo è il mondo della scoperta dell'amore se noi non lo capiamo non capiranno perché c'è il mito della scoperta dell'amore che in sé è veramente poca cosa ma viene costruita perché al di là di quello che è l'evento in sé di un ritrovamento incidentale e poi di una occupazione colonialista l'idea è di uscire dall'inferno che viene riportato e che si legge nell'arte ma la vedete la come viete la cesura che c'è tra un foppa e un caravaggio tra Leonardo dell'ultima cena e un Hieronymus Bosch l'Europa del Cinquecento l'Europa della scoperta l'Europa della conquista è l'Europa di Bosch è l'Europa governata dalla politica dall'economia dalla religione in cui la società è trascinata violentata seviziata non solo al di là dell'oceano come ci è stato insegnato ma anche all'uomo la l'Europa la l'Europa è la l'Europa l'Europa Sous-titrage ST' 501